eccomi 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 ma sì che sono io ragazzuoli belli e ragazzuole belle buona serata dal vostro alex ragazzi benvenuti e soprattutto buon mercoledì che giorno è oggi 26 gennaio 2022 ore 19 precise neanche farlo apposta ragazzi vi abbraccio tutti veramente partiamo razzo presto che tardi perché ragazzuoli belli devo anche uscire tra l'altro allora questo video breve e per informarvi sulla situazione che il milan il nostro milan vuole il difensore un difensore che non costi molto ma che sia scusate efficace per andare a riempire quella mancanza quella grave mancanza che ha lasciato il nostro simon chier per cui ragazzuoli belli procediamo a razzo di cose strane di cose che non si capiscono e succedono tante come è venuta fuori oggi la notizia prima di partire a razzo una prefazione sul fatto che in Europa tra Francia e Inghilterra a proposito Giuseppe ti ringrazio tra Francia Inghilterra e Spagna si sono già investiti due miliardi e mezzo di euro per rifacimento o tirassusta di nuovi e invece in Italia non si muove ancora foglia complimenti andiamo avanti così paese Italia come molto strano che adesso vengono fuori le viene fuori il dettaglio della trattativa di Gonsens praticamente all'Inter che praticamente l'Inter pagherà 25 milioni di euro tra 18 mesi uno spettacolo cose che non si capiscono partiamo a razzo allora ragazzi non so se l'avete saputo ma il Milan è su tre difensori uno è il difensore dello Schalke 04 altro 1,91 di 21 anni questo difensore devo dire la verità che mi piace abbastanza si chiama Malik Chiavo del 2001 lo ripeto ed è un ragazzo è un buon difensore veramente un buon difensore sono rimasto abbastanza estrefatto quando l'ho visto in video su youtube però lo Schalke 04 che è in dissesto finanziario vuole 10 milioni di cucuzze praticamente il Milan non è disposto a spendere per questo ragazzo 10 milioni di cucuzze 6 milioni più bonus e praticamente forse non se ne farò nulla ma ci sono altri due difensori su cui siamo indovinello è il paese uno dei preferiti di Massara che è la Francia Maxime Esteve chi è sto è un gigante olandese di 19 anni alto 1,92 con un fisico imponente valutato tra 3 milioni e mezzo di euro e 4 milioni di euro classe 2002 per cui ve lo ripeto di 19 anni che milita nel Montpellier ragazzi io questo altro giocatore l'ho visionato in video è un bel bestione è un toro da 90 questo è attenzione attenzione e poi come altra alternativa c'è Mattia Viti dell'Empoli Mattia Viti dell'Empoli quanto è alto 1,93 valutato dall'Empoli 4 milioni di euro diciamo che l'Empoli ci porta abbastanza bene perché comunque ben asserda dove è arrivato punto di domanda vabbè qualcuno di voi di da Crunici poteva rimanere anche dove stava però Crunici il suo sporco lavoro lo fa Mattia Viti ha 20 anni questo per farvi capire ragazzi questo video ha anche questo senso oltre alle trattative che sono in ballo cioè praticamente di questo Ciavò Mattias Ciavò cioè scusate Malik Ciavò di questo Maxime Stev e di Mattia Viti che il Milan il difensore centrale per occupare quello spazio lasciato da Simon Kier lo vuole prendere perché il discorso Butman è rimandato l'estate prossima la cifra di cui si parla sono 27 milioni di euro più bonus per arrivare a 33 come chiedeva il Lille Lille ha avuta vinta lasciateci Butman fino a fine del campionato dobbiamo giocare anche la Champions andare avanti in Champions e praticamente poi vi vedremo Butman ormai la trattativa sembra proprio indirizzata a questo senso perché Bremer andrà all'Inter e Butman al Milan spettacolare perché Butman è un giocatore che mi piace un casino e adesso lo vedremo giocare anche in Champions League e io seguirò le partite del Lille in Champions League per vedere come gioca Butman. Ragazzi questo è quanto adesso io vi saluto un video breve proprio per aggiornarvi sulla situazione di cose strane cose che non si capiscono ne succedono sempre tante è uno spettacolo vedo che ogni tanto salta fuori in base al video di ieri messaggi strani accusatori piuttosto che ma la cosa che mi ha fatto più ridere sono i tifosi milanisti che ancora insistono alcuni alcuni tifosi milanisti che non vogliono ancora capire e pensare con calma insistono abbiamo la targa del bilancio perfetto invece di vincere lo scudetto ma voi molto probabilmente ancora non avete ancora capito e molto probabilmente non capirete mai la questione su cosa va a parare perché comunque lo ripeto sempre fino alla noia è tutto un processo per un investimento futuro glorioso del nostro milan ma ripeto io non voglio farvi cambiare idea ognuno rimanga del suo parere perché non mi interessa nulla chi mi vuol seguire in queste idee bene ben venga chi non mi vuol seguire non c'è problema vi mando un abbraccio forza mila sempre comunque ovunque è uno spettacolo è giuventini interisti inutile che mi scrivete messaggi che ve la siete presa e non ve lo dovete prendere